La vera notizia è che in questa prima settimana di ritiro non c'è stata alcuna notizia. Tutto è filato liscio, senza particolari cose da segnalare in termini di polemiche, rimbrotti o cortocircuiti. Una settimana di lavoro intenso in cui non sono mancate le risate, le sfuriate e la fatica. Quest'ultima, con la voce grossa di Pietro Laporta, l'ha fatta certamente da padrona. In campo si sono visti calciatori impegnati, volti stanchi, ma distesi. A volte anche grandi sorrisi, sopravvissuti alle ripetute, alle corsi a sfinimento, alle lezioni di tattica e alla parte atletica. Rastelli ha messo mano anche agli schemi, dando tanta attenzione all'attacco, senza dimenticare l'organizzazione della difesa, i calci piazzati e addirittura i rigori. Nulla è stato lasciato al caso, nemmeno le sortite vicino al fiume dove scaricare i muscoli e parlare di relax. In questa prima settimana abbiamo conosciuto alcuni volti nuovi, tutti hanno colpito per l'ambizione, per la semplicità, ma anche per la capacità di gestire la stampa e le domande. Fa ben sperare per una squadra che va formandosi sotto gli occhi di qualche tifoso bianco-verde che fa capolino a palena. Una buona prima settimana, movimentata solo dal calcio atroce e nulla più. Bene così, in attesa dell'altra, nella speranza che si continui nel solco del lavoro e della tranquillità.